61 volontari cremonesi in pre-allerte pronti a partire. È una mobilitazione generale quella che sta avvenendo tra le file dei gruppi di protezione civile del nostro territorio in seguito alla richiesta lanciata dalla sala operativa della regione di mettersi a disposizione per un eventuale nuovo invio di mezzi e uomini in Abruzzo per fronteggiare l'emergenza neve e sisma. Alla richiesta hanno risposto più di una sessantina di volontari accreditandosi sulla piattaforma protezione nette. Non si sa se sarà necessario il loro apporto, di certo non tutti potranno partire. Si darà infatti priorità a chi è autonomo con mezzi e attrezzature e chi non dovrà chiedere permessi ai propri datori di lavoro. Per questa attività infatti vengono applicati benefici di legge con il rimborso delle spese sostenute esempio di carburante e pedaggi autostradali e vengono corrisposte spese alle aziende per l'assenza di loro dipendenti. Chiaro che si tenda al risparmio. Nell'emergenza emerge ormai sempre più chiaramente un'enorme falla economica che in questi giorni sta alimentando le polemiche coinvolgendo non solo la protezione civile ma anche i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine che stanno lavorando per salvare vite ma che devono arrangiarsi in fatto di attrezzature. Uomini che quotidianamente anche al di fuori dell'emergenza si mettono al servizio di uno Stato che sembra non esserci per loro.